Salusa 5 novembre 2010. Ognuno di voi possiede un immenso potere creativo, ma pochi se ne rendono conto o non credono in tale capacità. Talvolta, le persone, che condividono le stesse idee scoprono che unendosi specie se si tratta di sedute di guarigione le probabilità di successo aumentano. Se i gruppi sono molto numerosi, diventano ancor più potenti finché il loro intento diviene una grande forma pensiero, dotata di energia estremamente potente. Qualsiasi cosa può essere ottenuta mediante una forte concentrazione sull'oggetto dei vostri pensieri. Trasponendo questo in un movimento di portata nazionale, avete una forza quasi inarrestabile, che può essere positiva o negativa. In passato, scoppiarono delle guerre quando un paese fu aizzato contro un altro, spesso con odio fomentato da falsa propaganda. Adesso, carissimi, si può ben dire che lo stivale è ormai nell'altro piede, perché l'impetto del potere popolare ha suscitato un gran desiderio di pace nel mondo. La risultante energia è stata attirata da persone attive in tal senso, conferendo loro un potere, che supera ogni attesa. La pace e la completa cessazione di ogni guerra sono alle porte e, in verità, non potreste avere l'ascensione senza elevare le vibrazioni della Terra. Avendo già vinto questa battaglia, il vostro avvenire è assicurato, e nessuna tattica dilatoria da parte degli oppositori potrà minimamente influire. Di conseguenza, qualunque siano i vostri problemi presenti, avranno breve durata e presto sarete a conoscenza dei cambiamenti, che faranno progredire l'umanità molto rapidamente. Poche sono le persone, che non hanno notato come le cose stanno cambiando. Non tutti sono in grado di capire perché c'è tanta insicurezza, ma quando potremo contattarvi apertamente, la situazione vi sarà più chiara. Non si ritornerà più ai vecchi sistemi, che presto saranno spazzati via per sempre. Il futuro sarà splendido in vari modi, e l'età dell'oro si profila già, pronta a soddisfare tutte le promesse che vi furono fatte. La dualità appare sufficientemente reale, ma una volta superata, sparirà in distanza come un brutto sogno. A voi resterà il privilegio di una vasta esperienza, da usare al servizio di chi non ha ancora raggiunto il vostro livello evolutivo. Le elezioni americane di medio termine non cambieranno nulla di quanto previsto per l'immediato futuro. La politica fa parte delle questioni più importanti, che influiscono sulla vostra vita e dovrà essere del tutto rinnovata per allinearsi alla New Age. Riflettendoci, non sembra possibile, che si possa procedere speditamente verso l'ascensione, senza aprire una nuova strada. Tutto il disordine ed i residui della dualità devono essere spazzati via e il restauro della Terra dovrà essere completato quanto prima possibile. Noi siamo perfettamente pronti a farlo e stiamo solo aspettando le giuste condizioni per iniziare. Tutto ciò non può essere fatto senza la vostra piena collaborazione, che non dubitiamo ci sarà data non appena sarete infornati dell'importanza, che rivestite nei nostri progetti. Da parte nostra e di altri che visitano la Terra, non è possibile far molto di più per confermare la nostra esistenza. Gli avvistamenti dei nostri velivoli sono volutamente più frequenti e siamo sempre più numerosi. L'insabbiamento non funziona più e la pressione per la verità sta forzando la mano di chi finora l'aveva imposto. Riteniamo che la divulgazione avverrà al più tardi e entro pochi mesi sarà una semplice conferma di quanto già ampiamente noto, e pochissime persone saranno sorprese. Il risultato sarà, comunque, di permettere alla gente di farsi avanti e dire quel che sa. Ci saranno anche interpellanze alle autorità per sapere perché tante cose sono state nascoste e nell'interesse di chi. Queste questioni finiranno per portare a proteste concernenti la soppressione delle apparecchiature per produrre energia gratuita. Questo sarà visto come uno dei peggiori delitti, perché ha impedito l'uso di scoperte che avrebbero enormemente migliorato la qualità di vita della gente. L'elenco delle scoperte i cui frutti vi sono stati negati, si rivelerà a lunghissimo e l'ira popolare non sarà certo mitigata dal fatto che molte scoperte sono state limitate ad uso strettamente militare. Noi vi consigliamo di mantenere la calma e controllare la rabbia, sapendo che sarà fatta giustizia. Sapete, inoltre, che vi forniremo una grande quantità di tecnologie avanzate, di cui molte recentissime, tali da portarvi immensi vantaggi. Desideriamo rendervi autosufficienti riguardo all'energia per il riscaldamento o altre necessità domestiche. L'universo è pieno d'energia gratuita, normalmente utilizzata dalle nazioni stellari, membri della Federazione Galattica, e da altre civiltà. Non vi sommergeremo con tutto in una volta, ma vi faremo giungere all'era galattica in una serie di tappe, che vi saranno illustrate con cura. Una volta stabilito il contatto, saremo molto occupati, ma non avremo difficoltà organizzativa perché disponiamo di milioni di navi spaziali e relativi equipaggi. Nel frattempo, registriamo che i timori nei nostri confronti si stanno man mano dissolvendo questo ci rallegra molto perché abbiamo pazientemente lavorato per creare un clima di fiducia e amicizia con voi. Nessuno può negare che abbiamo dimostrato di essere di natura pacifica e mai siamo stati coinvolti in incidenti con voi. Come vi abbiamo spesso detto, preferiamo sottrarci a qualunque situazione, che potrebbe sfociare in alcun tipo di violenza. Lo abbiamo fatto in numerose occasioni, soprattutto quando i nostri velivoli sono stati attaccati senza alcuna provocazione da parte nostra. Sappiamo che ci sono stati incidenti con i grigi, ma costoro non fanno parte della nostra federazione e non abbiamo nessun controllo su di loro. Per accordi con precedenti governi statunitensi, furono concesse loro delle basi terrestri, ma questo avvenne molto tempo fa. Io sono il siriano Sallusa e, guardando indietro, è possibile constatare quanto il tempo si è accelerato per voi. Continuerà a farlo fin quando raggiungerete il punto di ascensione. Allora, la vostra elevazione vi depositerà nelle dimensioni superiori, ove tutto è nel presente. La vostra esistenza sarà trasformata in quel che sembrerà un mondo di sogno, che però per voi sarà del tutto reale. Ritornerete ad una esperienza di vita, che in passato vi fu ben nota, e che vi darà grande gioia e felicità. Naturalmente, siamo felicissimi per voi, che dopo il lungo percorso nella dualità, avete ben meritato l'opportunità di ascendere. Il Creatore ha preparato il piano per la vostra liberazione dalla dualità affinché possiate diventare un essere unico, dotato di piena consapevolezza. Allora diventeremo uno e viaggeremo nell'universo, quali esseri galattici. Grazie, Salu Sà. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003